Salmo 129, 130, 139. E ci aiuterà in questo Lucia Vantini che insegna Teologia e Filosofia alla Facoltà del Triveneto a Perona, che in forza della sua preparazione non solo teologica ma anche filosofica, qualcuna che ci fornisce delle belle riflessioni. Non devo dilungarmi perché appunto la conosciamo già. Magari tre salmi per una lezione divina unica sono anche tanta roba come si dice e quindi sarà suo discernimento magari appunto soffermarsi più sull'uno che sull'altro. Sono tre salmi che credo appunto ci possano dire molto in questi tempi, ciascuno con una forza particolare, brevi ma tutti quanti di straordinaria intensità. E finiremo sentendo il Salmo 131 cantato. hanno preparato le monache una versione in canto di questo Salmo e con quello concluderemo insieme ad un Padre nostro evidentemente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi dovrei parlarvi di un intreccio di parole fecondo e anche pieno di meraviglia. Tre parole che oggi sono svuotate di mondo. Non è che siano parole scomparse, anzi le sentiamo invocare continuamente. Proprio perché in questo momento la realtà si è fatta inospitale, dura, verso quello che queste parole significano. E come tutte le parole importanti della vita non possono risuonare da sole. Occorre un contesto di altre parole. Occorre quell'orizzonte di benedizione che i Salmi testimoniano, attestano e che è per noi come una sorgente in cui possiamo sempre e continuamente immergerci. Occorre una comunità che queste parole le senta proprie e che desideri in tutti i modi realizzarli. Così provo a rileggerle nel tessuto di questi Salmi, facendo un gesto che è un po' sempre nuovo ma anche antico. È un gesto di apertura di quell'orizzonte di fiducia, di consapevolezza, di benedizione che oggi sembra spento. Dovrei dedicarmi alla giustizia, al perdono e alla pace, rileggendo i tre Salmi che abbiamo appena ascoltato e su cui abbiamo iniziato anche la risonanza. Ognuno di questi Salmi prende senso in una maniera particolare attorno a una di queste parole, mi sembra. E io ho pensato molto a come avrei potuto valorizzare questo tesoro. Ho cercato di pensare a come avrei potuto mostrare che giustizia, perdono, pace sono parole che o si danno insieme oppure si perdono sotto i colpi della storia, proprio per mancanza di cura, per mancanza di sostegno. Ma mi sono resa conto subito che non ce l'avrei fatta a condensare in questo poco tempo tutto quello che avrei voluto condividere con voi. Allora ho deciso di lasciarmi trasportare dalle immagini più forti che vengono da questi tre Salmi, lasciando anche che andassero queste immagini un po' senza ordine. e mi sono permessa anche, con una piccola trasgressione, che spero mi perdonerete, di partire dalla fine, di andare un po' ritroso e quindi di prendere le mosse dal Salmo 131, per poi provare ad andare più brevemente all'indietro con qualche sottolineatura, soprattutto riguardo il Salmo 130, ma qualcosa anche vorrei dire di quello precedente ancora, del 129. Quindi lo scopo di questa mia parola non è certo quello di spiegare questi preziosi e densi testi biblici, ma proprio di provare a condividere con voi l'ispirazione che mi hanno lasciato e l'ispirazione che, come avete capito, è legata ad alcune immagini che mi stanno a cuore e che possono in qualche modo riaprire quell'orizzonte di benedizione nel quale anche i Salmi prendono corpo. Parto dunque dal Salmo 131. Non lo rileggo perché lo abbiamo appena letto. Vediamo che ci sono due scene diverse. Una sembra fatta di no e l'altra sembra fatta di sì. Potremmo dire un po' semplificando. E alla fine c'è un'ultima frase che riguarda il popolo intero. Israele, attenda il Signore da ora e per sempre. Questa parola finale che è anche per noi, ci viene chiesto ancora una volta di attendere il Signore, però questo invito, prima di diventare un invito spartito, un invito condiviso, ai versetti prima che ci aiutano a compiere un passaggio, una strada attraverso questi no e attraverso questi sì. Parto proprio dall'inizio di questo Salmo 131. Dicevo, è una parte che è costruita attorno a dei no proprio perché c'è una presa di distanza rispetto a uno stile di vita. È uno stile di vita egocentrico, narcisista, come si dice oggi, un po' manipolatorio e anche di fatto violento. Questa presa di distanza è espressa con una parola che passa, come sempre la Bibbia sa fare, per il nostro corpo concreto, per il cuore, per gli occhi, per i piedi. E' attraverso questi passaggi che noi davvero prendiamo le nostre decisioni e agiamo di conseguenza. Prima c'è un'intenzione, poi scatta un certo modo interessato di guardare le cose, di guardare la situazione, e poi ci muoviamo direttamente per prenderci quello che vogliamo. Ecco, pregare con questo Salmo significa anzitutto sbilanciarsi da questa parte, verso questo no, verso il rifiuto di tutto questo. È un dire no alle decisioni che nascono dall'orgoglio, che diventano un guardare il mondo dall'alto in basso, e finiscono per concretizzare uno stile di vita che è disposto a tutto, pur di riuscire, nell'intento del proprio immaginario. Chi prega con questo Salmo davvero si smarca da questo modo di abitare il mondo, si sbilancia piuttosto verso un cuore umile, verso occhi che guardano in basso, ma in basso per un attimo, solo per non giudicare, per non violentare la realtà, ma che continuano, anche se guardano in basso, a guardarsi intorno per raccogliere i bisogni, i desideri dei fratelli e delle sorelle che la vita ci ha posto accanto. Si potrebbe dire anche che chi prega con questo Salmo non fa il passo più lungo della gamba, perché non vuole perdere la propria misura, la misura creaturale, quella che mi ricorda continuamente che io sono anzitutto figlia e che proprio per questo sono sorella, e che tutti noi dunque siamo figli e figlie, sorelle e fratelli. I piedi di chi prega così non camminano, leggevamo, verso cose grandi e prodigiose, però non sono nemmeno dei piedi che stanno fermi. In questo tempo di sinodalità, per esempio, questo noi ce lo ricordiamo spesso, siamo chiamati a decidere di camminare e di smetterla di stare immobili a difendere chissà che cosa, ma siamo chiamati soprattutto a camminare insieme. Allora, i piedi evocati da questa preghiera mi hanno fatto venire in mente subito quell'arte dei piccoli passi che il piccolo principe chiedeva a Dio. Il piccolo principe dice insegnami l'arte dei piccoli passi. E lui diceva di averne bisogno per stare al mondo senza volerselo mangiare e per riuscire ad avere le forze che servono per salvare la quotidianità, l'attenzione, la creatività, il buon uso del tempo, la fedeltà all'essenziale, quello che è invisibile agli occhi, il senso del limite, la preoccupazione e anche la cura della speranza degli altri, quelli che non sperano più, che l'hanno perduta. Allora, questo Salmo non ci porta a una modestia degli obiettivi, ma ci porta davvero al rispetto del tempo e dei modi di Dio. Quel rispetto, tra l'altro, che Gesù doveva continuamente ricordare ai Suoi discepoli, che invece immaginavano continuamente tutta un'altra storia, una storia di gloria, di successo, sia nell'immediato sia anche nel futuro, una storia che avrebbe tenuto. E invece ci sono tante resistenze verso quell'idea di un chicco di grano che deve morire, passare per il buio soffocante della terra, muta, per poter dare frutto. Nella seconda parte di questo Salmo, 131, i no scompaiono e la scena si fa positiva. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Un senso di pace. Si parla di anima, ma forse rende meglio l'idea se ci ricordiamo che questa parola utilizzata dal salmista vuol dire anche desiderio, nefesh in ebraico, che letteralmente significa la nostra gola. La gola è il luogo in cui passa l'aria che respiriamo, è il passaggio anche dell'acqua che beviamo, del cibo che mangiamo. Questa è proprio l'idea, è una parola che ci ricorda che noi siamo esseri mancanti. La nostra vita procede grazie a ciò che riceve, grazie a ciò che non ha da sé. La parola desiderio ci ricorda anche che con questo scambio con il mondo noi da un lato ci dichiariamo mancanti, ma dall'altro facciamo esperienza del bene, di ciò che è buono, di ciò che è bello. L'aria di montagna, così fresca, pura, limpida, un bicchiere di buon vino, un cibo ben cucinato magari da chi condivide con noi la tavola. Per la gola passa anche, non solo ciò di cui abbiamo bisogno, ma passa anche ciò che ci fa sperimentare una vita benedetta, la forza della condivisione e il gusto anche dell'esistenza. Siamo esseri di desiderio dunque e il Salmo ci dice questo, ci presenta la possibilità che il nostro desiderio trovi serenità, sia quieti. Basta che questo desiderio accetti di non essere smisurato nelle intenzioni, negli sguardi e anche nei gesti. Qui c'è un desiderio che si presenta calmo e quieto, non è un desiderio spento. E' solo calmo e quieto rispetto a queste tentazioni che sono le tentazioni della megalomania, dell'egocentrismo. E questa calma, questo piacere, è lo stesso che provano i bambini svezzati quando stanno in braccio alla madre. E' bella questa immagine, mi ha fatto molto pensare il fatto che questo bambino sia svezzato. Perché non è il bambino ancora allattato, non è il bambino che si sente in simbiosi con la madre. Il bambino ancora allattato, quando sta in braccio alla mamma, cerca sempre qualcosa per sé, cerca il latte, non sta tranquillo. a volte vede anche la madre come un grande biberon e non ha la percezione della stanchezza di lei. L'immagine non va in questa direzione. Ci parla appunto di un bambino svezzato, un bambino che non può godersi questo abbraccio senza volere qualcosa di preciso. e il bambino svezzato, almeno così era in quel contesto, il bambino svezzato del Salmo probabilmente aveva già compiuto due anni, magari era già un esperto di giochi, di corse a perdifiato, di cadute, di pianti, di risate, di ricerche frustrate, di capricci, ma anche forse di ricompense. È un bambino che ha già ricevuto degli insegnamenti, è un bambino che ha già ricevuto dei rimproveri, è un bambino che è già stato portato qualche volta al Tempio. Ecco, questo bambino mi ha fatto pensare a ciò che forse intendeva Gesù quando continuamente invitava a diventare come bambini. non è un invito ad essere infantili nella fede, a sentire Dio come una madre che allatta e che è a nostra disposizione, sempre disposta a sospendersi per soddisfare il nostro pianto o magari anche il nostro capriccio. Nel Vangelo di Matteo leggiamo Vi assicuro che se non vi convertite e non diventate come i bambini non entrerete nel regno di Dio. Chi si umilia come questo bambino è il più grande nel regno di Dio e chi accoglierà uno di questi bambini per amor mio è me che accoglie. Ecco, diventare come bambini, fare come il bambino del Salmo significa convertirsi. Nel passo che ho appena letto del Vangelo di Matteo si parla di umiliazione ed è chiaro che Gesù sta insistendo su questo aspetto perché, come dicevo prima, ha incontrato la grande resistenza dei discepoli a servire il regno. I discepoli si sono domandati chi fosse il più grande tra loro per una sorta di competizione spirituale che anche noi a volte conosciamo. Hanno desiderato distinguersi da chi faceva il bene nel nome di altri maestri. Non hanno di fatto mai voluto fare spazio all'idea di un Messia sofferente. E nella frase evangelica non c'è solo questo invito invece a ospitare queste dimensioni di umiltà, ma c'è anche un impegno da assumere. accogliere uno di questi bambini per amor mio è accogliere me dice Gesù. E lo dirà anche sempre nel Vangelo di Matteo qualche capitolo dopo non importa se ce ne siamo resi conto oppure no, ma quello che abbiamo fatto o non fatto al più piccolo dei nostri fratelli, alla più piccola delle nostre sorelle, lo abbiamo fatto a Lui. Ma Dio è come una madre a cui tornare sempre, dopo le cadute, dopo i giochi, dopo i dispetti, dopo i pianti, dopo l'esperienza della solitudine, dell'abbandono e le nostre parole su di Lui e su di noi dovrebbero sempre tenere in mente questa immagine. Una madre che resta lì mentre noi abitiamo umanamente il mondo. Una madre a cui dobbiamo e possiamo tornare ogni volta che sentiamo che il desiderio si fa esorbitante, inorgoglito, prevaricatore, violento. Ecco, detto così, l'immagine è bellissima e va mantenuta nella sua forza pacificante e nella sua spiritualità profonda. Però, per questo mi sembra importante collegare il discorso anche al, soprattutto al salmo precedente e un po' di striscio anche a quello che viene ancora prima. Perché, detto così, potrebbe sembrare una rassicurazione un po' troppo pacificata. Può bastare davvero che io mi disponga a un desiderio misurato ad accettare il senso del limite nella mia lucidità, nella mia consapevolezza per poter godere di questa relazione filiale con un Dio che continuamente, costantemente mi aiuta con la sua fedeltà a comportarmi da sorella nel mondo. Può bastare che io preghi per il mio cuore, per i miei occhi e per i miei piedi affinché mantengano la misura del limite. E allora mi è venuta in mente una filosofa che amo, Simone Weil, che proprio su questo ci mette in guardia e dice noi siamo diversi da quello che immaginiamo di essere. Saperlo è il perdono. È una frase bellissima. Sapere che sei diversa da quello che credi di essere non è una tragedia, non è un dramma, non è un buon motivo per paralizzarsi, ma è il perdono. Ed è questa frase che utilizzo un po' come ponte per passare al Salmo 130 che è appunto immediatamente precedente a questo. È il cosiddetto De Profundis, uno dei salmi più amati, conosciuti e ripresi. Agostino, lo sappiamo, lo cita ben tre volte nelle confessioni e lo cita sempre per raccontare di sé, del suo cammino di consapevolezza e di fiducia verso un Dio a cui puoi mostrarti senza veli, un Dio a cui puoi raccontare chi sei veramente senza nascondere il tuo lato oscuro. Questo Salmo, lo sappiamo, è entrato tra quelli penitenziali della Chiesa Cattolica come espressione del nostro vissuto di pentimento e di perdono, proprio anche come dimensione collettiva di popolo di Dio. Lo sentiamo risuonare nella liturgia del Natale e ci viene incontro proprio come immagine di una luce legata davvero al Natale, pensiamo a come questo è rappresentato nel Vangelo di Giovanni, è l'immagine di una luce imprevista nel buio del mondo, di quella stella del mattino che attraversa le tenebre, le patisce, ma non lascia che queste vincano. E allora ancora una volta questo parla di consapevolezza, questo Salmo parla di consapevolezza del proprio peccato, ma resta un canto di speranza, perché le sue parole vanno nella direzione della fiducia, che il male commesso possa essere redento, rivolgendosi alla misericordia di un Dio che perdona e lo fa gratuitamente. Il Salmo inizia così, dal profondo a te grido o Signore. La voce di chi prega ora è un grido che si rivolge all'Eterno e che lo fa da luoghi profondi. Nell'orizzonte ebraico, lo sappiamo, il riferimento alla profondità non è mai positivo. Per noi, essere definite persone profonde suona come un complimento. Cercare la profondità delle cose vuol dire non rimanere nella superficie di quello che si mostra. Invece, nell'orizzonte ebraico, i riferimenti alla profondità del nostro essere sono sempre un po' angoscianti. è un po' come nel caos acquatico della creazione. Danno proprio l'impressione di una vita pericolosamente attratta da ciò che la può indiottire, da ciò che è la non vita. È il caos che spaventa perché sa davvero di morte. Nel Salmo 130 si tratta di cogliere questa profondità come cifra di oscurità, di inaccessibilità, di disperazione, di agonia. Simone Weil dice tu non sei come credi di essere. Questo Salmo traduce questa percezione di un sé in cui non ci si vorrebbe conoscere, riconoscere pienamente proprio come elemento, come luogo di profondità e nella profondità noi ci sentiamo irraggiungibili, ci sentiamo a rischio di morte ma forse inaccessibili, inguardabili, da allontanare. Il male sembra non avere argine lì, è lo spazio in cui regna la morte che inghiotte ogni frammento di bene e di vita. E questo però è proprio lo spazio della consapevolezza, della colpa e di ciò che non siamo ancora riusciti a essere. Da qui non si esce, ci suggerisce il Salmo, senza qualcuno veramente disposto ad entrare nell'inverno della nostra buona volontà, quel desiderio congelato che poi finisce per volere troppo. Potremmo dire non si esce senza qualcuno disposto ad attraversare anche l'inferno della nostra buona volontà, un Dio che scende agli inferi per tirarcene fuori. E nella voce di questo orante c'è una supplica che viene dall'amarezza per aver tradito infinite volte un Dio che è ostinatamente innamorato delle sue creature. è quella sensazione di uno scarto incolmabile tra come hai risposto a un dono che ti è stato fatto. È davvero il senso della disparità e questa voce domanda ascolto è pronta ad ammettere tutto, pronta a sentirsi responsabile, a fare i conti con la propria verità, sa perfettamente che non c'è nessuna giustificazione da poter tirar fuori se si dovesse essere sul banco degli imputati. Non c'è alibi per un tribunale quando si fa i conti con la propria oscurità di fronte a Dio. Nessuno può sentirsi giusto davanti a Dio. Le colpe ci sono e sono evidenti se si resta su questo piano giuridico e su questo piano giuridico non c'è possibilità di scampo, non c'è possibilità di futuro. Solo un gesto divino che ha il coraggio di raggiungerci fino lì questo buio può essere rischiarato, può essere abitato. L'orante insomma confida nel fatto che questo ascolto divino non terrà conto delle colpe come invece potrebbe fare. E non solo le raccoglierà queste colpe ma farà in modo che si creino le condizioni per una rigenerazione dell'esperienza perché Dio non è solo attento alla vita nelle sue diverse pieghe ma è capace di raggiungere anche la profondità più ferita anche quella più avvelenata è un Dio che non si stanca un Dio che non abbandona e anche qui viene in mente un parallelo con il libro di Giona che è lo sappiamo il profeta disubbidiente per eccellenza Giona che cosa fa dice nella mia sventura invocai il Signore ed egli mi esaudì dal profondo dello Sheol gridai Sheol proprio questa immagine di un'oscurità dove la vita si fa impossibile e appare perduta per sempre è da lì che Giona grida ed è da lì che Giona dice tu hai ascoltato la mia voce mi hai gettato nel profondo del cuore del mare è dalla parte più bassa che è iniziata la sua redenzione però ancora una volta vediamo il grido è raccolto il grido trova un'articolazione di pace ed è ancora una volta qualcosa di simile a quello che fanno le madri con i bambini quando questi piangono restituiscono sempre una domanda il pianto è spesso inarticolato ma sono le madri a tradurlo in domanda e quindi a disegnare il mondo come a una realtà che ti può rispondere quando tu piangi ricevi la domanda hai fame hai sete sei arrabbiato la traduzione in parole di un grido che non sa dirsi è questo che fa Dio traduce in domanda e dunque apre un orizzonte di risposta a quello che noi siamo ed è bello pensare che ancora una volta non sia una consolazione a buon mercato perché non sono parole che minimizzano il male non ti preoccupare cosa vuoi che sia tanto Dio è lì come una madre che te le fa passare tutte Dio si dice nel Salmo ti sta vicino ma ti fa sentire il mistero della sua differenza la parola timore nella Bibbia avere timore di Dio non significa avere paura ma significa aver sperimentato il senso di una disparità e aver sperimentato che si può stare in quella disparità di un amore che non è mai contraccambiato come dovrebbe e che tuttavia proprio per questo e nonostante questo non viene meno Dio domanda timore e non paura il timore è il senso della differenza e cioè è l'occasione per percepire la misericordia smisurata e che nonostante questo è un amore smisurato eccessivo eccedente non ci schiaccia e non ci fa continuamente tornare a un conto che non torna l'anima mia è verso il Signore è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora più che le sentinelle all'aurora Israele attenda il Signore anche questa immagine è molto bella queste sentinelle che andrebbero chiamate piuttosto persone che aspettano persone che vigilano sentinella è una parola che appartiene al linguaggio della guerra e noi dobbiamo disinnescare le parole tanto più che nella nella lingua ebraica c'è una parola che sarebbe più giusto tradurre con persone che custodiscono che è molto più bella e più pacifica però è bello tornare su questi versetti di grande speranza perché il grido di chi fa i conti con il proprio peccato con l'amarezza della delusione di sé è anche espressione di una possibilità la possibilità di un cambiamento di una conversione il senso di attendere una parola buona una parola con la P maiuscola quella che viene da Dio ma che poi si infrange e si rifrange in tante parole con la P minuscola che sono quelle che ci possiamo scambiare tra di noi e se vengono da quella parola con la P maiuscola sono sempre parole di solidarietà e mai d'altro con questa immagine di gente che aspetta di gente che aspetta che si faccia luce nel buio ho pensato a un'altra filosofa perché io contamino sempre un po' i testi e ho pensato a Maria Zambrano Maria Zambrano non voleva mai andare a dormire perché diceva dormendo io mi perdo qualcosa di meraviglioso che ha a che fare con il segreto della vita e questo segreto è lo spuntare della luce dal buio un elemento di luce che arriva piano piano senza annunciarsi e che porta con sé diceva lei anche una parola aurorale le parole aurorali sono quelle che sanno raccontare che il buio può essere interrotto dalle luci del mattino e lei diceva non possiamo mai essere troppo sicuri che questo succeda noi la notte la dobbiamo guardare in faccia con onestà prendere sul serio il male il nostro e quello che accade e scriveva così per descrivere l'ansia che le restava addosso nel contemplare la notte a mano a mano che avanzava la notte cresceva un'ansia una speranza in qualcosa di segreto che si sarebbe rivelato un mistero che avrei perso se mi fossi addormentata era una specie di gestazione ancora un'immagine materna una gestazione che aspetta che custodisce il bene che è appena iniziato aspetta di poterlo dare alla luce ma sa che non è tutto solo ed esclusivamente nelle proprie mani e anche qua vi sarà venuto subito in mente ciò che dice Isaia la sua famosa domanda sentinella ma quanto resta della notte questa domanda è anche una domanda però tragica ma anche piena di speranza non lasciamoci rubare la speranza scriveva Papa Francesco in Evangelii Gaudium noi non siamo innocenti ci ricorda questo salmo siamo tutte e tutti come il figlio prodigo trattiamo Dio come se fosse morto vogliamo in anticipo la nostra eredità e la vogliamo consumare lontano da lui siamo tutte e tutti come suo fratello il figlio maggiore che non accettava la gratuità del perdono siamo tutte e tutti come Giona riceviamo il compito di inviare messaggi di perdono ma ci rifiutiamo di farlo perché in cuor nostro pensiamo che quelle persone non se le meritino siamo come Pietro che a parole diciamo di non lasciare il Signore ma poi il canto del gallo oppure il canto delle sirene il suono delle bombe ma anche forse la nostra semplice sveglia mattutina ci ricorda che non siamo degni di quello che crediamo siamo come i discepoli che non riescono a cogliere la fede delle donne che rompono i vasi di profumo e non sappiamo riconoscere la fedeltà a Dio delle prostitute dei pubblicani e dei peccatori che ci passeranno davanti nel regno dei cieli continuamente Dio viene a riprenderci però dalla profondità dei nostri inferni se Dio tenesse conto dei nostri peccati noi certamente non potremmo uscirne da soli ma quel Dio madre che ci lascia andare per il mondo ci lascia errare nel doppio senso del termine andare in giro di qua e di là ma anche sbagliare e che poi ancora lì a tranquillizzare il nostro desiderio affinché non si spenga ma affinché non perda la propria misura ricordando al nostro desiderio che ancora è capace di cose buone vado verso la fine e certamente un po' troppo di sfuggita ma vorrei recuperare anche il Salmo 129 proprio alla luce di questa speranza che viene dalla profondità del male dalla sua densità buia il Salmo 129 quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza quanto mi hanno perseguitato fin dalla giovinezza ma su di me non hanno prevalso questo è un Salmo che protesta è un Salmo che chiede giustizia una giustizia che noi sentiamo essere per questa guerra ma anche per tutte le guerre del mondo si sente il tono della supplica di un paese devastato raso al suolo violentato si dice che i corpi umani sono arati e che si vedono i solchi sulla schiena l'immagine è proprio quella del corpo umano violentato ma anche delle rovine dei crateri delle macerie ovunque ecco questo Salmo viene da un popolo che parla di un attacco di guerra della schiavitù delle torture che vi sono collegate ed è ancora una preghiera la preghiera che il male non trovi radice che gli empi siano un po' come l'erba che a volte in quei paesi si formava sui tetti delle case si secca ancora prima che qualcuno vada a toglierla da lì allora un Salmo che particolarmente sentiamo vicino perché legato alle immagini di devastazione e di violenza che ci raggiungono in questi giorni ma noi ancora una volta speriamo che il male sia come l'erba sui tetti certo non potrà accadere senza aver fatto tesoro di quello che abbiamo sottolineato già nei due salmi precedenti c'è bisogno di prendersi cura continuamente del proprio desiderio affinché non si gonfi mai di orgoglio non perda la misura c'è bisogno anche di gridare dal buio dalle nostre notti della vita con fiducia sperando e aspettando un'aurora di perdono c'è bisogno di riscoprire un Dio materno a cui tornare continuamente per riorientare il cuore gli occhi i piedi e questo Dio materno in relazione a questo Salmo 129 che ci parla di rovine di guerra di devastazione ma anche di un Dio che è capace di attraversare anche questo male che non abbandona e che porta luce alla fine mi è venuta in mente una poesia che mi sta accompagnando molto spesso in questo ultimo periodo che è dedicata al Vietnam ed è di Slava Zimborska perché mi sembra che lì ci sia un po' quella verità della vita che è un Dio dal volto materno che domanda però una lingua materna la lingua dei fratelli e delle sorelle che ha un certo rapporto con le cose ecco qua in questa poesia c'è quella verità sulla vita che sta emergendo nell'orizzonte di benedizione attestato dai salmi è l'immagine di una donna che si è nascosta con i suoi bambini in qualche luogo mentre il paese veniva martoriato e dice così questa poesia donna come ti chiami non lo so quando sei nata da dove vieni non lo so perché ti sei scavata a una tana sottoterra non lo so ma da quando ti nascondi qui non lo so perché mi hai morso la mano non lo so ma sai che non ti faremo del male non lo so da che parte stai non lo so ora c'è la guerra devi scegliere non lo so il tuo villaggio esiste ancora non lo so questi sono i tuoi figli sì ecco nella poesia di Zimborska il sì della donna che viene dalle macerie della storia e che attesta tutto il disorientamento che abbiamo addosso noi oggi ferma la nostra attenzione sul domani sui nostri figli sulle nostre figlie perché il fascino della guerra non tocchi mai o mai più il nostro desiderio nella sua oscurità e concludo dicendo che un Dio materno conosce bene questo grido della storia e lo ascolta e si ferma e se ne prende cura e se ne non tocchi mai non tocchi mai non tocchi mai non tocchi mai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti